Conosci la signorina Amber Heard? Sì, la conosco. E dove l'ho incontrata? L'ho incontrata nel 2009 all'aeroporto internazionale di Sita. Perché era in aeroporto? Ho lavorato lì. Cosa è successo quando ho incontrato la signorina Heard? Bene, nel 2009 ero nell'area ritiro bagagli e l'ho osservato con una compagna di viaggio. E sono entrati in un alterco in cui la signorina Heard ha afferrato la sua compagna e le ha tirato qualcosa, tipo la presa per il collo. Io mi sono alzato e sono andato a cercare di separarle. E anche un collega aiutarmi perché ci siamo messi in mezzo a loro e le abbiamo separate. Fermando qualsiasi ulteriore violenza o escalation. Come descriverevi l'interazione tra la signorina Heard e la sua compagna di viaggio? Beh, la signorina Heard era aggressiva nei confronti della sua compagna di viaggio. Si era allungata, l'aveva presa per un braccio e gli aveva strapato via una collana. E poi l'ho osservata mentre la teneva in mano. Sembrava non molto in sé. I suoi occhi erano sfocati, acquosi. Potevo sentire anche odore di alcol. Come ha reagito la signorina nei confronti della signorina Heard? Beh, ha alzato le braccia in un modo difensivo. A parte questo era piuttosto chiusa. Era anche più alta della signorina Heard. Non poteva tranquillamente difendersi, ma non l'ha fatto. Come descriverebbe il comportamento della signorina Heard quando lei si è intromessa fra loro due? Beh, era un po' sprezzante. Ha detto, stiamo solo litigando, stiamo bene. Perché gli stavo chiedendo se andava tutto bene, se c'era qualcosa di sbagliato che stava succedendo. Obiezione per sentito a dire. Ha notato ferite sulla compagna di viaggio di Messier. Beh, aveva un'abrasione sul lato dove gli aveva messo le mani, sul collo. Tutto quello che ricordo.